Io sono Antonio Maiorana, rappresento la Major Group, che è un gruppo industriale che si interessa da oltre 25 anni di ricerca, di produzione di prodotti cosmetici nel settore air carré. E produciamo circa 3 marchi di proprietà della compagnia e produciamo marche private per circa 35 aziende nazionali e internazionali. In modo particolare ci interessiamo alla distribuzione dei nostri marchi nei vari continenti, quindi siamo presenti in 5 continenti per avere una diffusione ottimale delle nostre marche. Quindi nel nostro settore specifico è il settore professionale, il settore capelli. Grazie a tutti! Grazie a tutti!